Teodorico di Chartres. Teodorico di Chartres fu il fratello minore di Bernardo di Chartres. Forse tenne lezioni a Parigi e però intorno al 1140 venne a essere reggente a Chartres. In seguito si ritirò in un monastero e qui morì intorno al 1150. Di Teodorico di Chartres sappiamo che difese a Belardo e che compose un manuale atto a favorire l'insegnamento delle arti liberali. Secondo le usanze del tempo il manuale di Teodorico di Chartres si intitolava Eptateucon che letteralmente significa le sette mura. In questo stesso secolo va detto che sul portale occidentale della cattedrale di Chartres venivano raffigurate le sette arti fondamentali per poter comprendere la scrittura. Teodorico compose anche commentari allo scritto di Boezio sulla Trinità e alla Genesi. A giudizio di Teodorico la Genesi chiede di essere primariamente interpretata alla lettera e non allegoricamente o simbolicamente. Per quel che riguarda la filosofia stricto senso di Teodorico di Chartres egli differenzia tra quattro modalità fondamentali di essere delle cose. Due modalità fondamentali dell'essere delle cose sono quelle della necessità. E a tal riguardo Teodorico di Chartres distingue attentamente tra la necessità assoluta e la necessità dell'ordine. La necessità assoluta riguarda il modo in cui tutte le cose sono come ripiegate nella semplicità che è propria di Dio. Complicazio, la necessità assoluta ha a che vedere con la complicazio, l'essere delle cose ripiegate nella semplicità divina. Il secondo tipo di necessità, la necessità dell'ordine, riguarda invece le cose che si sviluppano, ossia ciò che sono come sono, ed è anche chiamata fato. A questo riguardo Teodorico di Chartres parla di explicazio, lo sviluppo delle cose secondo l'ordine. Ad esse, ossia le cose come si sviluppano secondo l'ordine, corrispondono poi le due modalità della possibilità, la possibilità assoluta e la possibilità determinata. Per quel che concerne la possibilità assoluta, essa riguarda la maniera in cui le cose sussistono come meramente possibili, cioè come non ancora determinate, così come esistono nella pura possibilità nella semplicità divina. Per quel che concerne invece la possibilità determinata, essa ha a che vedere con la realtà sensibile, con il mondo sensibile come esiste in atto. Teodorico di Chartres si richiama anche alla dottrina aristotelica delle quattro cause e in particolare individua la causa materiale nei quattro elementi. Essi sono stati creati da Dio. Vi è poi l'individuazione della causa efficiente aristotelica in Dio padre, che è l'autore delle cose del mondo. La causa formale aristotelica viene da Teodorico di Chartres individuata nella sapienza di Dio, vale a dire nel figlio. Il figlio infatti dà ordine e forma alla materia. Infine, per quel che riguarda la causa finale, essa era avvisata da Teodorico di Chartres nello Spirito Santo, il quale Spirito Santo vivifica la materia così come già disposta nel suo ordine. Teodorico di Chartres poi identifica lo Spirito Santo con l'anima mundi di cui già aveva parlato Platone e dopo di lui i cosiddetti neoplatonici. Così ordinata la natura, dice Teodorico di Chartres, si sviluppa in maniera autonoma, in grazia della rotazione dei cieli, e dalla rotazione dei cieli discendono il calore e la vita. Ma poi la natura così ordinata si sviluppa autonomamente anche in grazia dell'azione delle cause seconde che Dio ha immesso in tutte quante le realtà. In questo modo la filosofia di Teodorico di Chartres si configura come una sintesi cristiana delle posizioni di Aristotele, in particolare della dottrina delle quattro cause. E con questo bagaglio Teodorico di Chartres ritiene di aver spiegato l'ordine delle cose.